Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Itroger, oggi ho fatto una partita sul line of side in team The Match è uscita la nuova mappa, si chiama Showdown e ci teniamo tantissimo a farvela vedere io comunque vi ringrazio per il numero di iscritti che ho raggiunto nell'ultimo periodo e niente, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace al video buona visione ragazzi cercherò di fare meno tagli possibili come detto già in precedenza per farvi vedere i maggiori dettagli presenti sulla mappa che sia sul gioco vediamo se c'è qualcuno qua è la prima volta che la sto facendo ho saputo che avevano rilasciato la nuova mappa però non l'avevo mai vista ancora quindi la stiamo vedendo insieme, non la conosco minimamente allora, quello dovrebbe essere lo spawn nemico forse sicuramente vediamo dove porta oh no Dove sono i nemici? Mazzoooo E' che solo sentivo che stavo qua il bastardo Forse ve la deve conoscere la map Madonna! Ah mi ha deciso l'altro No, iniziando a mettere di impegno Eccolo la Non è che pure da qua si salve si entra Ah no Allora questo non arriva da qui Minchia! Minchia! In tre sono arrivati Convinto che ce n'era solo uno Convinto che ce n'era solo uno Dalla serie proprio Noi quando ci muoviamo andiamo insieme Non la lanciamo qua Non so nemmeno dove cazzo sto là Mamma mia che culo Cioè stavo saltando eh Cioè durante il salto Tu vieni mi spari Mi prendi retta in testa Ok Andiamo Oh Ma da dove cazzo arrivano? Ma è acceso E' una roba incredibile questa Ah C'è qualcuno la E' questo qua no Cioè ragazzi C'è gente che campera così Guarda So So Propri Non ho parole Proprio Eh Cioè non ti ha Non mi ha dato nemmeno Vabbè da dietro eh Porco Giuda Vabbè da comunque dai Non vi faccio vedere la mappa qui sopra Vi faccio vedere un po' che c'è qua E vediamo pure se li riesco a prendere da sopra Eccolo la Nooo E perchè? Ha lanciato la granata dentro Un po' che c***o Che c***o Eh forse questo è un buon punto Nooo Ah non muanda nemmeno la percentual Non da un cavolo sto gioco Eh questi stanno qua Ah qua Qua manca secondo me il passaggio qua Per scendere giù Secondo me qua manca proprio Reloading Ma dai eh Però quando arrivano da dietro eh Si mettono proprio dietro i bastard Non ti fanno camminare Uwa Beh Beh, sapete che c'è uno da favore del giro qua che mi sono pure stancato un pochino è parecchio ampia sta mappa diversi passaggi bisogna fare attenzione a troppe cose e la mappa è pure bella non è che muovi per questo che sia brutta anzi mettete i prossimi perché prima come avete visto i bollini verdi allora questo sto qua sotto solo me la sovcamperata questa oh sento passi ma tu non mi ha dato nemmeno nooo assolutamente assurdo dove cazzo è andato? ma dove è andato? è sparito non la possiamo vabbè l'abbiamo per assaggiare eeeh ragazzi l'abbiamo persa questa non è che ci possiamo fare chissà che cosa comunque io con questa partita chiudo vi ringrazio per aver visualizzato il video se volete iscrivetevi al canale e lasciate un bel like al video ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 ciao